Il consigliere comunale Marinela Geremia che attesta oggi una bella prova di collaborazione tra maggioranza e opposizione per un progetto comune. Vuoi parlarne a Savona News? Sì, questo è senz'altro un bel esempio, come hai detto tu, di collaborazione. Noi abbiamo appunto, è stato un percorso piuttosto lungo, però poi quello che importa è il risultato che abbiamo ottenuto, quindi una bella area, la prima area canina a finale dove si possono portare i cani e speriamo che questa cosa funzioni, che grazie anche all'ausilio di un bel gruppo di volontari, con i quali io infatti ero stata in contatto già dall'inizio, abbiamo appunto pensato a questo terreno e l'ho proposto all'amministrazione, è piaciuto e quindi poi abbiamo iniziato questo iter per sistemarlo grazie appunto anche all'aiuto degli alpini e abbiamo poi studiato la convenzione e siamo arrivati oggi a questo risultato, quindi sono molto contenta e ci porterò anche senz'altro il mio cane.